Bene, allora ciao a tutti amici del Film Club. Oggi abbiamo come ospite Beatrice Segolini, che è la regista, la filmmaker di questo All the Good Intentions, che è un film che è stato presentato come lavoro finale della scuola Zedig e che ha alcune particolarità che mi piacerebbe così, di cui mi piacerebbe parlare con l'autrice, visto che abbiamo la possibilità di parlare con lei. Ciao Laura, intanto buongiorno e benvenuta. Per me è anche una cosa nuova per cui chi ci vede ci chuserà se magari ci sono un po' degli inghitti ogni tanto. Allora, il tuo film è molto particolare, devo dire che è anche molto coraggioso, perché in sostanza parla della tua famiglia. Cioè tu hai fatto un film che è una specie di documentario, se vogliamo, da un certo punto di vista, più che un film a soggetto, che parla della tua famiglia e ne parla in maniera molto diretta, cioè portando sullo schermo anche delle dinamiche e delle situazioni che è più facile vedere se le si vede, magari in qualche intervista, in qualche reportaggio, cose del genere. Come mai hai scelto di dare questo taglio al film? Beh, bella domanda. Ma io penso che nella mia famiglia c'è sicuramente un grande, i miei familiari, i miei fratelli, mia mamma, ma anche mio papà hanno sicuramente un grande talento espressivo, drammaturgico. Cioè a volte quello che loro davanti alla camera hanno fatto andava al di là di ogni possibile immaginazione. Cioè abbiamo avuto tante volte la sensazione che volendo scrivere una sceneggiatura con loro, con dei personaggi come loro, non si sarebbe mai arrivati ad avere delle scene così forti. La realtà a certe volte supera di molto la costruzione fittiva. E quindi con loro in questo senso è stato facile lavorare cinematograficamente e ho anche una personale teoria a riguardo. Cioè il fatto che magari, dato che il fatto di non poter comunicare apertamente nella mia famiglia ha favorito forse lo sviluppo di altri modi di comunicazione o altri linguaggi. Cioè comunicare con il corpo, con il tono, con le deviazioni dal discorso. Penso che sia stata una dote che io e i miei familiari abbiamo sviluppato per superire alla mancanza di comunicazione diretta. Sì, in effetti quello che dici rispecchia insomma quello che poi anche si vede poi nel film. Perché poi ognuno dei tuoi familiari, che sono i protagonisti insomma del film, hanno proprio una loro identità molto ben definita. Soprattutto i tuoi due fratelli, che sono quasi diametralmente opposti e che sono veramente molto espressivi da questo punto di vista. è stato difficile lavorare con loro. Cioè quando gli hai proposto questo film, come hanno reagito? Allora, da un lato il film era anche il primo lavoro, primo lungometraggio per tutti noi. Quindi diciamo che avevamo immaginato un film ancora più ampio di quanto è poi diventato. Perché chiaramente non si può fare un film da 200 ore analizzando tutte le sottotrame, eccetera, eccetera. Però in una fase di scrittura, in una prima fase di ripresa, in realtà ci siamo concentrati anche su varie sottotrame che riguardavano proprio, per esempio, i miei fratelli, il rapporto tra Michi e mia mamma, che in quel momento vivevano insieme, Michi se ne voleva andare, eccetera, eccetera. e la vita invece di mio fratello Stefano, che in quel momento stava vivendo un breakup con la sua ragazza dell'epoca. Insomma, c'erano anche approfondimenti su questi paralleli, diciamo, che però poi abbiamo dovuto tagliare in fase di montaggio, perché chiaramente la storia si è focalizzata molto su tutte le dinamiche che sono emerse a riguardo del nostro rapporto con il nostro padre, chiaramente. Cosa che avevamo previsto, però ovviamente quando è successa ci ha comunque colpito per la sua forza, anche a me. Cioè, è strano parlarne come regista adesso, però, perché sono anche un personaggio che chiaramente, come si vede nel film, è colpito in prima persona da tutto questo. Adesso c'è più distanza, quindi magari sembro più regista, però nel momento la tensione era, diciamo, era presente. Quindi, detto questo, in realtà la mia famiglia è stata molto felice di partecipare, secondo me per vari motivi. Primo perché finalmente tornavo a casa e quindi tutti avevano un po' voglia di rilacciare i rapporti, di avere qualcuno con cui parlare e negli anni precedenti avevo un po' assunto il ruolo di confidente, diciamo, di quasi ognuno. E in secondo luogo il fatto che ci fosse una troupe, in particolare Max, il cameraman, e Aaron, che faccio fare il suono, significava non essere più soli, cioè avere dei testimoni esterni. E per la mia famiglia, che era sempre rimasta in tutti questi anni isolata nelle loro microdinamiche, avere dei testimoni esterni era qualcosa di preziosissimo, cioè loro facevano una gara per essere, per stare davanti alla telecamera, diciamo, no, guardate, adesso ti racconto io, adesso ti racconto io. Tutto questo ovviamente prima, fino al momento in cui ho toccato il tasto di nostro padre, cioè perché da questa intervista che si vede nel film, in cui dico soltanto, no, non soltanto, ma di nostro padre, cosa vi ricordate? Da lì in poi le cose sono state più difficili per me, non per il cameraman e il fonico. Nel senso che da lì in poi, per esempio, era un po' più difficile programmare le riprese con mia mamma, se telefonavo io, diciamo, se provo a farlo io, però invece il cameraman Max poteva sempre chiamare, aveva tutta la disponibilità possibile. E questo da un lato. Dal lato, invece, con mio papà, penso anche che il suo sia stato un modo anche forse di, tra virgolette, magari farsi perdonare in qualche modo. Cioè la sua disponibilità al film, secondo me è stata data dal fatto che, sì, insomma, come una, quasi una, un atto, diciamo, di riconciliazione in qualche modo. Un modo forse per farsi, per farsi perdonare. Questo, così, lo leggo retrospettivamente. C'è, a tutto questo, questa costellazione, c'è anche un'altra dinamica, cioè il fatto che mio fratello Stefano, come anche si capisce nel film, era in un periodo della sua vita particolarmente turbolento, perché proprio quando abbiamo iniziato le riprese stava vivendo una separazione molto burrascosa, e quindi con lui è stato molto difficile organizzarsi praticamente, nel senso che era impossibile farlo arrivare, insomma, concordare degli orari e rispettarli, insomma. Quindi arrivava un po', come si capisce anche nel film, arrivava un po' all'improvviso e bisognava girare. E non c'era la possibilità di dire, ah, ma allora domani cosa fai? Insomma, era tutto un po' tumultuoso. Il tuo fratello Stefano è quello un pochino più che, diciamo, reagisce di più da un certo punto di vista, però dall'altro punto di vista tiene ancora tante cose dentro, no? Sì, sicuramente. Penso che tutti quanti noi abbiamo sofferto dalla situazione. A seconda, a volte, vedendo il film, ho la sensazione, per esempio, che mio fratello Mickey, magari, che è rimasto fosse schiacciato da questo conflitto per il suo ruolo anche, diciamo, di bravo figlio, in quel periodo, poi adesso sono passati gli anni, eccetera, eccetera. Però diciamo che il suo ruolo di bravo figlio che risponde alle aspettative della mamma e del papà, forse l'ha costretto a tenere dentro le cose in questo modo, mentre invece, altre volte riguardando il film, penso, forse mio fratello più grande è quello che ci è rimasto più sotto, perché tutte queste forti emozioni che lui sa esprimere anche in modo esplosivo rimangono un po' non digerite, almeno da com'è nel film. E a te è servito questo film per riuscire un po' ad elaborare anche questa situazione? Certo, ovviamente. A parte, parlando come personaggio, ha cambiato, ha sbloccato un po' tante dinamiche familiari, nel senso che dopo la vita dei miei fratelli, per esempio, è cambiata molto, e anche il rapporto tra me e mia mamma è cambiato molto. e in generale ha un po', da un lato ha sbloccato, aver fatto un film in cui, diciamo, ho preso in quel momento le raveni del problema della nostra famiglia, tra virgolette, o dei problemi della nostra famiglia, da un lato ha sbloccato le dinamiche di tutti gli altri, dall'altro, sbloccando gli altri, mi ha dato anche la possibilità di non sentirmi più così responsabile della mia famiglia. Non so se è chiara la cosa. Quindi, oltre al fatto che è stata un'occasione per conoscere meglio anche, per esempio, la storia della mia sorella morta, di cui nessuno aveva mai sentito veramente parlare, tant'è che fino al giorno delle riprese ognuno di noi figli aveva una teoria diversa su come è morta, perché è un argomento così delicato che era sempre stato quasi legato in un angolino e già anche nel film emerge, ma non è, diciamo... Non è espresso nel tutto, no? Esatto, cioè si capisce che ancora c'è tanto della propria... È arrivato il fonico qua. Grazie. Non toccare il computer, perché altrimenti... E quindi ho potuto capire, per esempio, anche che la morte di questa sorella, che non ho mai chiaramente conosciuta, ha lasciato delle grosse cicatrici sui miei genitori, che prima magari potevo forse intuire, però adesso le vedo più chiaro, cioè tra senso di colpa... Sì, insomma, tante emozioni forse anche lì rimaste un po' non elaborate. Perché sono difficili da elaborare, no? Non è che sono... Eh sì, certo. Di fatti c'è appunto chi come tuo fratello più grande dice, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, no? Che è un po' l'atteggiamento maschile, no? Da questo punto di vista. Cioè... Adesso forse in questi anni ci si sta accorgendo che la dimensione forse emotiva della vita è estremamente importante, cioè che c'è una... Che la salute emotiva e mentale è un aspetto della vita che non si può trascurare e penso tanti che sono rimasti, diciamo, tanti, soprattutto maschi in questo caso, però non solo, però chi è cresciuto, diciamo, ignorando questo aspetto della vita forse oggi spesso ne paga le conseguenze, nel senso che ci si sta accorgendo che non parlare mai di sentimenti, di quello che è caduto, andare sempre avanti, non mostrarsi mai deboli. Insomma, è una cosa che si paga a caro prezzo. Quello sta succedendo un pochino anche nei social, a dire la verità, no? Dove uno mostra sempre un'immagine di sé che poi non è quella reale, se vogliamo, no? È quella che ci piacerebbe che fosse, ma non è poi così, no? Io mi chiedo, per esempio, tante volte, come elabori anche certe cose, perché non è che andiamo incontro ogni giorno a dei risultati ottimali, andiamo incontro ogni giorno spesso a dei fallimenti, no? Il problema è appunto come poi lo si rielabora. Dov'è il posto per rielaborare questo? Tu pensi che sia un modo per riuscire a fare questo? Decisamente. Io penso che le storie hanno un impatto. Cioè, le storie sono il nostro, come si dice, uno strumento essenziale per la nostra sopravvivenza, nel senso che attraverso le storie noi possiamo dare dei nomi, delle forme al caos che è l'esistenza, e quindi la scelta di che cosa raccontare o che cosa a volte non raccontare influenza anche quello a cui noi possiamo dare un nome o quello che noi siamo più in grado di affrontare. Per esempio, raccontare più storie familiari significa forse dare uno, qualche piccolo strumento in più alle persone che si interfacciano con queste storie per capire magari se stessi. Alla fine, secondo me, io personalmente penso che è per quello che come specie siamo così, abbiamo così bisogno di storia, perché cerchiamo un po' delle cose, degli elementi per aiutarci a fare, mettere assieme dei pezzi e fare un po' di senso in quello che ci succede. Questa è una cosa interessante, secondo me, perché noi abbiamo, è vero, come dici tu, abbiamo bisogno di storie, no? Abbiamo bisogno di, anche di essere raccontati, no? In un certo modo. Però noto che sempre di più, anche nella narrazione cinematografica, però anche quella visuale, ci metto dentro quella televisiva, ci metto dentro anche quella dei social, se vogliamo, tendiamo ad appiccicarci sopra o a riferirci a delle narrazioni che sono narrazioni standard, no? Ecco, quello che è il titolo del tuo film è che non è una narrazione standard, cioè è qualcosa che va fuori dalle righe, no? Nel senso, dal punto di vista della riuscita o di fare un film che possa essere fruito, il tuo non è così facilmente fruibile, perché se uno un po' che lo vede, ma gli viene nervoso quasi, no? O si sente troppo. Ecco, cosa ne pensi tu di questo fatto che ci affidiamo a delle narrazioni che poi in realtà raccontano poco di noi? Ottima domanda, anche questa. Ma penso che, da un lato siamo attratti dalle storie, dall'altro anche siamo, ci piace anche essere comodi, nel senso che anche la nostra mente è costruita a risparmio, nel senso, cioè, andare per nuove strade, provare a raccontare storie non stereotipate, è tecnicamente facile, però mentalmente ci si pone ancora tante barriere. Devo dire che io ho molta fiducia nelle nuove generazioni in questo. Vedo, per esempio, anche una differenza nell'uso dei social o in generale anche nelle produzioni, diciamo, dei giovani e giovanissimi. vedo una maggiore apertura verso storie di diverse e di diversità e meno stereotipizzazione. Posa anche come conseguenza del fatto che ci si rende conto che ormai tutti sono sia consumatori che produttori di storie, come dicevi tu, sia su Instagram, su Facebook, ma anche, diciamo, con i mezzi della tecnologia. Possiamo tutti fare un film, possiamo tutti tecnicamente fare un podcast, in teoria. Non è più così difficile come era una volta. Quindi ci si rende conto di questo e ci si rende anche conto, ok, quali storie mancano, quali figure non ho mai visto rappresentate, però sono presenti, sono reali. Si parla, per esempio, sempre di più di includere la diversità nelle storie, di avere storie che non hanno sempre il protagonista classico uomo bianco lambda etero e donna bianca lambda, da ricca, magra, etero. Insomma, si parla di cercare di rappresentare tutto uno spettro di cose che prima non sono mai state rappresentate. Ho molta fiducia in questo e sicuramente però è una scelta di rappresentazione che parte anche da piccole scelte individuali ogni giorno, in quello che noi scegliamo di produrre, banalmente, nei nostri social, nei nostri profili, e in quello che consigliamo agli amici è quello che noi scegliamo di guardare. Adesso abbiamo la scelta. C'è internet, non dobbiamo tutti guardare Spider-Man perché è l'unica cosa che passa alla TV. Eh sì, sì. Siamo un po'... Però purtroppo sembra strano, no? Ma questa, a fronte di questa grande offerta che c'è anche proprio alla portata di tutti, poi alla fine tante volte le scelte ricadono sempre sulle stesse cose, no? Cioè, mi vengono in mente i film degli anni 70, no? Non perché io sia un nostalgico degli anni 70, però ci sono dei momenti in quei film che ancora adesso lasciano un pochino un po' stupiti, no? Un po'... Ti prendono un po' in contropiede perché comunque erano state fatte quelle scelte che tu hai proprio detto adesso, no? Raccontare anche delle figure diverse, dei personaggi diversi, qualcuno che ti mette anche in crisi, no? Cioè, non so, adesso mi viene in mente così, penso a Taxi Driver, ci raccontare un personaggio come quello di De Niro non era così semplice, 75, 76, voglio dire. Invece che il solito winner della società, insomma. Sì, 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 esatto. Sì, sì, decisamente. Decisamente, lì, secondo me, sicuramente è una responsabilità dei scrittori, degli autori, anche forse una responsabilità produttiva, nel senso che se già per esempio nel nostro paese produrre un film di finzione è estremamente difficile, forse c'è anche meno volontà di assumersi dei rischi. Se è già così complicato da finanziare, tutti, diciamo, vogliono la cosa che può andare bene su... Succede un po' a tutti i livelli, non succede nel cinema, non succede nella musica. Sì, sì, sì. Però dall'altro lato, forse ok, per il cinema è un po' diverso perché per produrre film in genere servono di finzione, soprattutto servono grandi budget, per il documentario è già meno. Dall'altro lato, però, viviamo anche nel internet in questo senso, pur con tutte le problematiche, eccetera, che ancora quasi sconosciute che porterà a lungo termine sulla nostra mentalità, eccetera, una cosa buona è il fatto di potersi connettere molto più facilmente, nel senso che io adesso posso ascoltarmi un podcast che racconta delle storie che io qua non troverei mai, che magari viene dal Canada, un tizio in Francia può ascoltarsi un podcast che viene dal Messico su una piccola, capito, su una storia molto di nicchia che magari non avrebbe mai potuto, insomma, raggiungere in altri modi, insomma, tecnicamente con dei mezzi magari meno costosi del cinema, possiamo essere più in contatto con altre realtà e dall'altro sentirci meno soli, penso per esempio alle nuovissime generazioni che adesso parlano tra di loro di salute mentale, di identità di genere, sessuale, di lotta ai pregiudizi antirazzismo e lo fanno in un modo che a me stupisce nel senso che si sente che ognuno di questi di questi nuovi, non so come dire, che le persone che prima sarebbero state semplicemente sole e isolate perché tra virgolette diverse, ora hanno almeno la possibilità di non sentirsi più così sole, di potersi dare un nome, delle rivendicazioni, di fare comunità e quindi di avere anche più peso, anche politico o comunicativo e questo per me è fantastico. Con il cinema siamo ancora molto lontani da questo ma penso che sia dovuto ai costi. Sì, anche il me. Troppo. Troppo, veramente molto, sì. Nel documentario già invece si sa, capito, è già un po' più facile. Vi faccio l'ultima domanda cioè qual è il regista che ti ha ispirato di più? Per questo film? Per questo film e in generale. Ah, beh, difficile. Ecco, sì. Questo film, io mi ricordo che per esempio, ok, ovvio, è strano paragonarsi, cioè mettere Scorsese e me nella stessa frase, però chiaramente Taxi Driver me lo sono guardato tre volte prima di fare questo film. era sicuramente nella lista dei riferimenti, ovviamente anche The Wrestler. Sicuramente questi due sono stati una grande influenza ma anche Helga Reidermaster spero di averla pronunciata bene che è una documentarista tedesca che ha insegnato anche per tanti anni alla Zelig adesso meno perché ormai è anziana e ha problemi di salute e ha fatto questo documentario che si chiama Von Wegen Schicksal che vuol dire ma quale destino in cui lei da esterna in questo caso si è addentrata nell'intimità di una famiglia ha ripreso un po' le denami che poi lì si trattava anche di una storia di violenza ancora in atto e lei ha provato a parlare un po' con tutti per capire cosa succede bellissimo documentario ancora in bianco e nero però a me veniva in mente anche Bergman scene da un matrimonio oppure altri film che lui ha fatto sempre sulle dinamiche familiari che è un regista che adesso per esempio certamente si muove sempre nell'ambito della fiction non è oppure mi veniva in mente il Vendors di Nick's Movie quando lui ha ripreso la fase terminale della malattia di Nicholas Ray sono tutti esempi che non è così facile incontrarli adesso perché come dicevamo prima è un po' tutto più standardizzato però insomma penso che siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata perché ci sono appunto dei tempi un po' da rispettare io ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità ti faccio ancora i complimenti per il film e speriamo che Smoke è venuto a fare la sua passerella finale e niente io spero tanto che riusciamo poi a vederci e a vedere il tuo film anche in condizioni normali diciamo come quando riprenderà l'attività insomma certo per questa possibilità per questa occasione di almeno di incontrati grazie a voi di presentare il tuo film che ritengo molto interessante grazie grazie a voi e grazie al Capitolo ovviamente per resistere in questo modo in questo periodo così incerto ciao grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti